I nomi che fate, i nomi che sono corretti, sono quelli lì, perché me li dicono anche a me, per cui li dicono a voi e li dicono a me, e sono quelli lì. Giusto quello che è stato detto oggi, che probabilmente è quello dove si sta direzionando ora l'attenzione di Fegulì, però ci vorrà ancora del tempo, stanno parlando. Tanto lo scrivete, per cui è inutile andare a tenerlo nascosto. Per quanto riguarda gli altri, erano delle ipotesi che si raffreddano oppure diventano più possibili, che si sono un po' raffreddati. Quella più possibile ora è questa qui. E Rincón piaceva anche a noi, per cui si sono rafforzati. Oltre ad essere già squadre fortissime di pari livello come la Roma.